Ieri in riunione con il Ministro Infrastrutture di Micheli, il sottosegretario Traversi, una nota del Presidente Totti dalla gronda come già fatta, già stabilito che si farà in quel modo e si è parlato anche di 500 milioni di denaro che dovrebbe arrivare in compensazione per la costruzione della gronda, me lo conferma? No, intanto il Presidente della Regione Totti come sempre è molto disinformato, nel senso che ad oggi quando parliamo di quel vecchio progetto della gronda parliamo di un progetto su cui non c'è nemmeno la firma al progetto esecutivo, quindi come faccia a partire lo sa solo il Presidente della Regione ma siamo abituati alle sue sparate. Per quanto riguarda la compensazione di questa cifra, francamente non è stato argomento di dibattito con il Ministro, a meno che questa non sia una richiesta che ha fatto il Presidente della Regione ma che a quel punto diventa una sua richiesta personale, sicuramente non è argomento sul tavolo in questo momento. Con il Ministro De Micheli c'è stato un confronto su quali siano le nostre posizioni sul tema della gronda che peraltro nel nostro caso la posizione è nota, cioè quella per cui fare il vecchio progetto della gronda dal nostro punto di vista non ha più senso, un progetto vecchio di 30 anni che metterebbe in tasca altri 2 miliardi di euro e benetton, che sarebbe pronto forse fra 15 anni, che prevederebbe il più grande scavo del mondo. Noi pensiamo che si debba fare il nuovo progetto della gronda che in qualche modo può essere una revisione dell'antico progetto che però prevederebbe una parte che raddoppia della 7 su cui ormai diciamo che siamo d'accordo tutti ma che eviterebbe alla Liguria il più grande scavo del mondo, cioè questa mega galleria di più di 50 km che la fragilità del nostro territorio oggi non si può permettere. Ma queste benedette concessioni verranno rinnovate e benetton oppure no? Io personalmente spero che vengano revocate nel più breve tempo possibile, credo che il Presidente Conte abbia detto delle cose abbastanza chiare ultimamente, quindi per come ho interpretato io le sue parole io penso che da qua a poco avremo delle risposte chiare su questo e l'unica versione che io posso concepire è quella della revoca delle concessioni ad autostrade che si è rivelata veramente qualcosa di incredibile, un danno totale per la nostra città a partire sempre perché è giusto ripartire sempre dal ricordo delle 43 persone che non ci sono più dopo la tragedia di Ponte Morandi. Eppure in via Perlasca in questi giorni ha aperto un cantiere di autostrade per opere propedeutiche alla gronda di Genova e questo non è un segnale? Questo è un segnale dell'avidità di autostrade perché quella è un'opera accessoria, di fatto quello sarebbe il cantiere dello Slar Ridotto, che è un'opera accessoria, che quindi può essere cominciato nonostante non ci sia la firma sull'esecutivo, perché c'è la firma però sul progetto definitivo. Questo autostrade lo fa semplicemente per mettere pressione sulla città, per dire noi stiamo andando avanti il più possibile per arrivare al momento della revoca delle concessioni e dire ma come noi eravamo pronti per partire e il governo ci vuole fermare. Questa è la tattica puerile di autostrade, quindi fa questo come continua ad andare avanti con gli spropri delle case. Quindi questa è una tattica assolutamente vile di autostrade che continua a confermarsi per quello che è. Rimaniamo nel campo delle ipotesi. All'autostrade non viene revocata la concessione, magari viene accorciata in termini di durata, come compensazione all'autostrade viene dato l'aumento dei pedaggi, la gronda viene costruita come da progetto attualmente l'unico esistente. Cosa succede nel movimento? Penso che sarebbe una sconfitta totale e a quel punto penso che ognuno dovrebbe trarre le proprie conclusioni, ma io sono sicuro che non andrà così. Ad oggi se si sta evitando a questo territorio, questo mega scavo, lo si fa perché soprattutto tra le forze politiche più rilevanti è il Movimento 5 Stelle che da sempre si mette di traverso a quest'opera totalmente folle per questo territorio. E ad oggi le parole chiare fin dalla tragedia del Ponte Morandi sulla revoca delle concessioni ad autostrade le ha dette sempre solo il Movimento 5 Stelle perché francamente fosse per gli altri partiti qualcuno gli avrebbe dato anche un premio. Quindi sul futuro non mi so esprimere, però fino ad oggi credo che le cose giuste il Movimento le abbia dette. Adesso però convengo sul fatto che bisogna anche dare una sterzata finale per arrivare a un dunque. Non certo una sterzata come è stato fatto per il Terzo Valico? No, sul Terzo Valico no, però è anche vero che quella è una situazione diversa, nel senso che lì l'opera era già cominciata, non tanto quanto raccontano i gota genovese che raccontano di un'opera finita all'80%, quando basta andare sul sito del Ministero per vedere che siamo a poco più del 20%, però era un'opera già finanziata e già cominciata che si muoveva su ferro. Poi sulla storia criminogena di quell'opera potrei parlare per delle ore, però era oggettivamente un'opera diversa rispetto alla Gronda. La Gronda non è ancora cominciata, addirittura non è stato ancora firmato il progetto esecutivo, quindi io penso che sia da questo punto di vista una situazione diversa che sia ancora modificabile. Chi sarà il vostro candidato alle regionali? E chi lo sa, glielo stavo per chiedere a lei e invece mi ha fregato, io non glielo so dire, vedremo.